ciao a tutti allora in questo nuovo video in queste chiacchiere sulla fermentazione vi voglio parlare di una cosa che ultimamente mi ha occupato un po una curiosità che è nata un giorno semplicemente cercando su internet notizie che poi si è trasformata in una vera e propria piccola ricerca che voglio condividere con voi il tema come avete visto nel titolo è appunto il famoso mitologico lievito cam perché parlo di di mitologico lievito cam perché appunto questa ricerca è partita da una mia curiosità rispetto a questo lievito voluto semplicemente cercare notizie informazioni su questo lievito di cui spesso noi fermentatori parliamo quando di solito su sulle nostre bevande fermentate o sui nostri latto fermentati si crea quella patina quella patina opaca diciamo da consistenza un po rigida sulle nostre fermentazioni spesso parliamo appunto di lievito cam si è formato del lievito cam eccetera eccetera e quindi ho pensato di andare a cercare informazioni su questo lievito esattamente di che natura è di che lieviti è formato di che microrganismi è formato eccetera e mi sono davvero sorpreso del fatto che per ora ho cercato su internet e google scola che per chi non lo sapesse è la pagina di google che raccoglie il meglio delle ricerche scientifiche mondiali ho cercato informazioni sul lievito cam appunto senza trovare nulla nulla di nulla ho dedotto alla fine che questo lievito è una chimera è un racconto metropolitano che gira appunto tra tra noi i fermentatori che effettivamente non sappiamo dare diciamo altro nome ad alcuni dei loro più comuni problemi appunto che è la formazione di queste pellicole superficiali sui prodotti fermentati non vi nascondo che sono rimasto parecchio deluso dal fatto di non trovare informazioni questo perché il termine lievito cam era uno dei principali titoli diciamo che utilizzavo io stesso nei miei corsi o anche durante diciamo le mie i miei pensieri rispetto a qualcosa che non è andato bene nelle fermentazioni quando appunto incontravo un qualche problema che erano queste pellicole che si creano sui sui fermentati e quindi il fatto di non trovare informazioni mi ha un po spiazzato anche perché non non capisco bene anche da dove derivi questo termine lievito cam questi problemi in realtà quando noi definiamo parliamo di lievito cam parliamo di problemi molto eterogeni cioè sono tanti tipi di problematiche che accadono ai nostri fermentati a diversi anche fermentati che diciamo racchiudiamo sotto un unico nome che è questo appunto di lievito cam e questi problemi compaiono come dicevo in diversi fermentati dal miso alle bevande fermentate ai latto fermentati ai crauti alle soda eccetera quindi utilizziamo diciamo questo termine generico lievito cam per descrivere problemi che compaiono su diversi tipi di fermentati e allora ho cercato informazioni rispetto a questo e tutto sommato comunque la delusione della mancanza assoluta di ogni riferimento scientifico a questo lievito cam è stata colmata comunque dall'approfondimento che ho potuto fare rispetto a questa a questa materia che comunque molto interessante rispetto a questo argomento che mi ha portato a comprendere che con questo termine di solito ci riferiamo appunto a diversi tipi di effetti che noi vediamo che possono essere riconducibili a diversi microrganismi infatti diciamo come già detto con questo termine noi identifichiamo dei un film diciamo di variabile consistenza che si crea sopra i nostri cibi fermentati e questo film può avere diverse consistenze può avere può essere uno strato molto sottile bianco rigido che si spezza può essere uno stato invece un po più spesso che crea una specie di nevischio diciamo sui fermentati a volte anche una certa diciamo una certa estetica geometrica anche quando compare sulle bevande sugli aceti e quindi al momento in base alle mie ricerche posso affermare ma attendo anche gradite smentite che non esistono studi specifici su ciò che riguarda questo tipo di film questo tipo di stratificazioni che si creano sopra sopra i nostri sopra i nostri cibi fermentati eccezione fatta però per una tipologia invece di di problematica che invece si presenta nelle bevande fermentate nel mondo delle bevande fermentate noi abbiamo invece degli studi anche molto approfonditi su questo e sui problemi che si presentano diciamo sui problemi superficiali che si presentano sulle bevande e addirittura questo questi studi hanno anche attribuito un nome a questo a questo problema il problema che è conosciuto nel mondo dei vini e in generale delle bevande fermentate il problema della fioretta col termine fioretta si appunto identifica questa specie di sostanza superficiale della consistenza un po tipo di ricotta diciamo che si forma sulle bevande fermentate come dicevo il mondo delle bevande fermentate è l'unico perché comunque c'è un'industria dietro che studia e che ha bisogno di comprendere queste problematiche è l'unico che ha studiato e definito come nasce questo problema e come anche arginarlo quindi a parte questo possiamo dire anche che nelle fermentazioni salate lattiche questo problema diciamo è riferito ad alcune specie di lieviti filmogeni capaci di formare appunto sulla superficie questi strati e questi strati si formano in particolar modo a contatto con l'aria quando i nostri fermentati sono in qualche modo sottoposti al contatto con con l'ossigeno e i responsabili di queste formazioni sono appunto dei lieviti quello che ho capito cercando in giro è che nel caso delle lattofermentazioni questi lieviti questi queste formazioni diciamo questi film che si creano sulla superficie dei lattofermentati sono attribuibili ad un tipo di lievito particolare che ha un nome anche diciamo nome e nomine che è il picchia membrano facensis il titolo nome appunto dice già qual è la sua caratteristica un altro lievito anche che contribuisce a creare queste pellicole sulla superficie dei fermentati è la candida e ce n'è un altro ancora che è la ansenula che sembrerebbe il vecchio nome del lievito picchia però su questo in realtà ho trovato diverse fonti dalle quali ho fatto fatica a trarre in realtà poi l'informazione se questi due lieviti fossero la stessa cosa cosa succede succede che questi lieviti possono ossidare l'alcol quindi compaiono anche sulle bevande fermentate degradano sicuramente gli acidi gli zuccheri aumentando l'acidità volatile dei nostri fermentati e il picchia degrada anche l'alcol etilico in acetaldeide l'acetaldeide è una sostanza dannosa e tossica per il nostro organismo ma è anche in realtà molto familiare al nostro organismo perché è la sostanza in cui l'alcol etilico nel nostro fegato viene convertito e la stessa acetaldeide comunque viene convertita nel nostro fegato in energia e acidi grassi quindi diciamo che il nostro organismo possiede sicuramente gli strumenti per contrastare i danni di questa sostanza acetaldeide ma la cosa più importante dal punto di vista della fermentazione è che l'acetaldeide attribuisce odori di acido pungente ai nostri fermentati quindi possiamo capire che quando qualche nostro fermentato come succede a volte con i crauti o spesso anche nel miso assumono questo odore di acido, di acetico molto pungente il problema appunto può essere attribuibile all'acetaldeide e in particolare a questo lievito alpichia membranofacensis per quanto riguarda la fioretta invece quindi passiamo alle bevande è un fenomeno tipico, come dicevo, della produzione dei vini più generalmente anche delle bevande fermentate quindi spesso compare sulle ginger beer compare sulle soda sull'idromiele anche se a me non è mai successo sull'idromiele compare sul sidro ecco, può succedere a me è successo perlomeno spesso col sidro quindi soprattutto bevande a base di succhi di frutta e si manifesta appunto con questo consistente strato di fiocchi sulla superficie e ha una consistenza appunto che si spezza al movimento questo specifico problema è dovuto ad un altro tipo di microorganismo quindi noi spesso chiamiamo lievito camo quello che accade nelle bevande lievito camo quello che accade nel miso quello che accade nelle lattofermentazioni ma in realtà in questo caso nelle bevande questo problema è dovuto ad un altro microorganismo che è il micoderma il micoderma dei vini ed è appunto come la parola dice un fungo, un lievito sul quale invece si possono trovare tantissimi tantissimi studi e approfondimenti molto interessanti anche l'unica particolarità è che spesso tutti i riferimenti che troviamo rispetto a questo fungo rispetto a questo lievito sono attribuibili a studi fatti nel mondo della vinificazione quindi sono sicuramente studi molto attendibili molto approfonditi eccetera però da un punto di vista di risoluzione del problema si riferiscono quindi tutti un po' al discorso dell'uso poi della nitride solforosa cosa che personalmente credo come molti fermentatori non vorrebbero utilizzare quindi il limite sicuramente troverà molte informazioni ma il limite poi nelle soluzioni proposte nel mondo dei vini è l'utilizzo dell'anidride solforosa che effettivamente sembrerebbe risolvere il problema quindi bisognerebbe trovare in ambito casalingo diciamo una soluzione equivalente all'effetto dell'anidride solforosa però ovviamente più sano per la nostra salute anche se la stessa anidride solforosa usata in una certa modalità in una certa misura sembrerebbe essere diciamo non problematica però personalmente è una cosa che vorrei non utilizzare quindi dicevamo la cura di questo problema nel mondo della vinificazione è affidato in lunghissima parte in via preventiva all'uso dell'anidride solforosa quindi che compaia o meno si utilizza l'anidride solforosa per eliminare diciamo l'eventualità che possa accadere e tra l'altro sembra che nel tempo questo fungo stia diventando anche resistente l'anidride solforosa quindi in futuro forse è un problema che si dovrà affrontare anche in un altro modo quindi appunto le ricerche che sono in giro sulle bevande fermentate e su questo fungo sono tutte riferite all'utilizzo di questa sostanza dell'anidride solforosa per quanto riguarda invece i problemi dovuti alle nostre preparazioni salate e ai relativi lieviti che possono infestarle l'unico metodo l'unica cosa che posso proporvi è diciamo di utilizzare accorgimenti per evitare la loro comparsa gli accorgimenti sono appunto questi qua che vi elenco adesso la prima cosa sicuramente è fermentare a basse temperature questo perché sembra dalle ricerche che ho visto che ho letto che le temperature sotto i 15 gradi inibiscano bene la formazione di lieviti indesiderati sui prodotti salati quindi mantenere i fermentati in un ambiente fresco e in un ambiente soprattutto anaerobico quindi quando facciamo il nostro vasetto di crauti quando facciamo il nostro vasetto di verdure e latto fermentate il vasetto va chiuso va chiuso bene va tenuto chiuso non va aperto ogni tanto per controllare non va coperto con la carta e con l'elastico no va chiuso un'altra cosa importantissima so già che qualcuno potrebbe chiedermi in questa fase è se le verdure devono stare sotto il liquido o meno non è importante questo aspetto l'aspetto importante è l'anidride carbonica che è l'ambiente si saturi di anidride carbonica quindi potete pressarle usando i pressini di verdura in modo che le verdure siano sotto la salamoia ma non è necessario potete anche non farlo la cosa importante è chiudere il vasetto e fare in modo che l'ambiente si saturi di anidride carbonica quindi che si crei un ambiente anaerobico questo perché appunto le formazioni di lieviti sono favorite dal contatto con l'ossigeno e cosa importante utilizzare vasi con tappi ben funzionanti o al massimo una cosa ottima cosa è utilizzare tappi con gorgogliatore in modo che l'anidride carbonica possa anche andare via un'altra cosa che possiamo utilizzare per evitare problematiche utilizzare una percentuale di sale più elevata più alta dove è possibile ovviamente di solito per un lato fermentazione si utilizza il 3 barra 5 per cento possiamo salire al 7 anche in qualche caso al 10 per cento ovviamente la nostra preparazione sarà più salata questo è un consiglio anche molto discutibile lo so bene però questo mette molto in sicurezza il fermentato ovviamente ne potremmo mangiare un po' meno mescolato a delle altre verdure al posto del sale quindi è un'idea è un consiglio poi ognuno poi lo prende come vuole il sale appunto inibisce la formazione dei lieviti non di tutti i lieviti però sicuramente di quelli che producono questo tipo di problemi i nostri fermentati sì non ho trovato informazioni valide ma sembra che la percentuale sia relativa anche al calore quindi più caldo più sale più fresco meno sale appunto perché la temperatura influisce sul processo un'altra cosa è questa che una volta aperte le confezioni vanno conservate in frigo quindi una volta che noi abbiamo aperto la confezione di fermentati la richiudiamo la mettiamo in frigo al fresco e va consumata nel più breve tempo possibile perché vedrete che anche in frigo un brevissimo tempo nel giro di una settimana comparirà appunto il lievito superficiale la formazione ecco una cosa interessante che ho estrapolato da alcuni studi sui sui salami sembrerebbe che ho estrapolato questa informazione che alcuni ceppi di Lattobacillus Plantarum riescano ad essere antagonisti di questi lieviti e questa è una cosa molto interessante quindi cioè questa è una una ricerca basata su studi che viene utilizzata nel mondo del dei salumi e così però non le possiamo trasportare nel mondo dei Lattobacilli e quindi in che modo ad esempio utilizzando nelle nostre verdure fermentate delle colture come starter quindi se abbiamo una vecchia coltura di fermentati è bene aggiungerla ai nuovi fermentati che stiamo preparando perché appunto questo andrà a dare una protezione maggiore al nostro futuro fermentato anche ad esempio l'aggiunta di kefir di latte che contiene Lattobacillus plantanum potrebbe diciamo in linea teorica perché dipende molto dal tipo di kefir che abbiamo in casa anche potrebbe innestare questo questo processo appunto di antagonismo contro i lieviti oppure oppure un'altra cosa interessante è che ci sono si vendono delle confezioni di Lattobacillus di vari Lattobacillus per avvio diciamo di Lattofermentazioni in gran parte sono formate proprio da Lattobacillus plantarum guarda caso e magari si possono acquistare per chi lo desidera fare e utilizzare come aggiunta o come starter di partenza per i nostri fermentati in modo da avere una buona produzione di plantarum che va a proteggere dai lieviti la nostra preparazione bene questo è tutto questi sono i consigli che ho pensato di darvi per tutto il resto rimaniamo aggiornati e per chi avesse studi o indicazioni a riguardo è bello condividere è bello anche integrare quello che ho detto è bello anche smentire se qualcuno ha uno studio particolare dove invece ci parla di questo lievito cam per il momento io ho dedotto appunto che il lievito cam è un grande mito e forse andrebbe trattato diciamo in questo in questa modo bene grazie e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao